Benvenuti a Cislinforma, venuti alla seconda puntata di Cislinforma, nel primo incontro il tema trattato è stato quello del lavoro e dell'occupazione, ce ne occupiamo in qualche modo anche in questo secondo incontro perché è tra i temi caldi che andremo appunto a verificare, che andremo ad approfondire con i nostri ospiti di oggi che sono Rudy Rufferè, segretario generale aggiunto, Cisle Belluno Treviso e Rino Dalben, segretario generale Cisle Pensionati Belluno. Perché parlo del lavoro, dell'occupazione, ma in generale della situazione del nostro Paese in questo momento? Perché c'è una legge di bilancio, la manovra del governo 5 Stelle Lega che è naturalmente stata oggetto di attenzione del sindacato, della Cisle dei sindacati. Mi pare peraltro, segretario, che su questo tema si sia ritrovata una sorta di unità fra le sigle sindacali. Benvenuti, sì. Allora, noi abbiamo già presentato nelle settimane scorse una piattaforma unitaria CGL Cisle Will, siamo andati nei luoghi di lavoro, quindi abbiamo fatto le assemblee per presentare un po' le nostre idee. Però mi si permetta, noi diciamo questo, l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, certamente non sui condoni, sulla sicurezza o sull'evasione in generale. Perché diciamo questo? Lo stiamo dicendo a questo governo, ma lo abbiamo detto anche nei precedenti governi. Noi abbiamo bisogno di costruire un progetto di Paese, quale visione abbiamo, qual'idea di democrazia, qual'idea di partecipazione. Quindi a noi ci pare che da qui dobbiamo partire. Nella piattaforma che abbiamo presentato a questo governo stiamo proponendo delle cose che abbiamo detto anche gli altri governi. Noi dobbiamo assolutamente rimettere al centro il lavoro, a partire per esempio dagli investimenti. Noi siamo in un territorio come quello di Belluno che ha bisogno di investimenti. Penso alla Ferrovia, penso alla 27. Se in questo Paese ritorniamo a investire, creiamo occupazione, ma diamo anche una spinta produttiva e logistica fondamentale. Per esempio, noi abbiamo molte manifatture, pensiamo a cosa vuol dire l'industria 4.0, pensiamo a cosa vuol dire investire nella formazione, nella ricerca, nella scuola. Sono elementi questi che mancano. Poi va da sé che c'è tutto il tema, per esempio, delle politiche attive. Quindi noi diciamo che il reddito di cittadinanza è un punto di partenza se veramente riusciamo a far partire quelle politiche del lavoro che diventano fondamentali anche nel nostro territorio nel momento in cui le persone perdono il posto di lavoro nelle aziende decotte. Anche qui a Belluno abbiamo avuto situazioni di questo tipo. Quindi diventa fondamentale recuperare un confronto con questo dialogo. Anche perché le cose vengono fatte bene nel momento in cui riesci a gestirle con chi ogni giorno lavora a fianco dei lavoratori, dei disoccupati, di chi appunto vive la precarietà, di chi ha uno stipendio che non è sufficiente oggi a reggere quel costo della vita che, come tutti noi sappiamo, soprattutto nelle nostre zone per alto di montagna, sono ancora maggiori rispetto al resto del territorio. Si rivela dunque estremamente importante come riferimento il sindacato, ci deve essere una rivalutazione del ruolo di corpo intermedio che in qualche modo è anche la cerniera tra la politica, tra il governo, tra le istituzioni e i lavoratori. Quindi è molto importante che vi sia una ripresa di valore proprio in sé del ruolo del sindacato. Noi riteniamo, quando noi diciamo corpi intermedi, che è una parola che a me piace poco, significa che chi sta nella quotidianità, chi sta nel territorio capisce bene le misure che devono essere adottate. Prendiamo un esempio, la riforma sanitaria che viene portata avanti in questo momento è un bel libro dei sogni che però poi nella declinazione nel nostro territorio trova delle difficoltà e molto spesso sarebbe utile alla politica, noi riportiamo anche alla realtà territoriale, proprio alle cose concrete e quotidiane, sentire chi appunto come noi, come le organizzazioni sindacali, in particolare la Cisla ma non solo, riesce a dare anche delle indicazioni sulle misure da adottare. Questo noi lo riteniamo fondamentale e devo dirlo che non lo stiamo facendo con questo governo, lo abbiamo fatto anche con i governi precedenti. Ci tengo a sottolineare questo aspetto. Ho usato questo termine che a lei non piace perché sono una della vecchia guardia anch'io, quindi utilizzo i termini della politica di un tempo. Veniamo alla presa di posizione dei pensionati della Cisla. Voi avete già detto che questa manovra proprio non ci piace, siete già scesi in piazza per protestare. Sì, il giorno 28 di dicembre non abbiamo perso tempo in questi momenti, siamo già scesi in piazza con dieci manifestazioni regionali, sostanzialmente pluriorregionali, noi nel Veneto l'abbiamo fatta a Venezia per protestare rispetto alle misure che questa nuova manovra mette in atto per i pensionati. Quindi una decurtazione sostanzialmente delle pensioni e soprattutto un non rispetto di quelli che sono stati gli accordi con il governo precedente di tre anni fa. Quindi c'è una seconda fase così definita che doveva essere sviluppata a favore non solo dei pensionati, ma anche dei lavoratori, quanto diceva prima l'amico Rudy, quindi un complesso di norme che prevedevano anche per i lavoratori dipendenti per il lavoro, per lo sviluppo del lavoro, perché questo è essenziale sicuramente per entrare poi in una dinamica che veda tutti gli attori, quindi i lavoratori, pensionati, chi ci governa, assieme per un progresso che noi reputiamo indispensabile. Quindi ancora la concertazione che è un ruolo importante. Segretario, lei intravede però nel complesso di questa manovra qualche elemento da salvare? Sì, ci sono alcuni punti interessanti sulla quale il confronto con il sindacato potrebbe migliorarli. Se per esempio prendiamo la quota 100, allora io sono soddisfatto che l'app social sia stata confermata anche nel 2019 perché era stato già fatto un buon lavoro rispetto ad anticipare le persone che andavano in pensione con per esempio i lavoratori gravosi. Noi saremo perché a 41 anni di contributi la gente vada in pensione, però se ragioniamo su questo lavoro intorno alla quota 100, secondo me ci sono delle cose interessanti. L'altra questione è la cosiddetta reddito di cittadinanza, ne abbiamo parlato tanto, alla fine è diventato il REI trasformato in reddito di cittadinanza, noi abbiamo un tema di povertà anche nel nostro territorio, qui la scommessa vera è quella di riuscire a far funzionare, come dicevamo prima, le politiche attive, i centri per l'impiego, cioè dare delle possibilità anche a quelle persone che sono rimaste marginate. Poi ci sono comunque nella manovra alcune azioni soprattutto in termini fiscali che sono molto importanti come la riconferma dei contributi per la ristrutturazione dell'edilizia, come qualche investimento anche nell'edilizia pubblica, noi abbiamo un problema con le scuole, poi ci sono tutta una serie di elementi che comunque non abbiamo adesso il tempo per elencarli, ma sono molto importanti. Però ripeto, è importante riuscire a ricostruire un dialogo per migliorare questi aspetti della finanziaria, perché quello che va assolutamente rimarcato è che la politica non deve smontare sempre quello che è stato fatto precedentemente, ma bisognerebbe avere il coraggio di non guardare il consenso immediato del giorno dopo, ma di guardare lontano e quindi in questo senso portare avanti le cose buone, migliorare sicuramente le cose che non vanno bene e ce lo chiedono tutti, ridurre la burocrazia. Anche qui c'è qualche timido segnale, ma dobbiamo rafforzare questa riduzione della burocrazia. Torniamo al segretario generale Cisla pensionati di Belluno Treviso, Rino Dalben. Quali sono le vostre proposte di modifica? Le proposte riguardano sicuramente il dato dell'indicizzazione principalmente, un'indicizzazione che viene taglieggiata e che da anni ha questo aspetto, ha assunto da diversi, quindi anche dei governi precedenti, un taglio che da quest'anno per tre anni, questa è la manovra finanziaria, prevede un taglio secco dell'indicizzazione su tutti i trattamenti pensionistici, cioè fatto salvo tre volte il minimo, quindi circa 1.500 euro l'orde, al di sopra delle quali ci saranno per tre anni questa riduzione dell'indicizzazione. Quindi una perdita del potere d'acquisto? Una perdita secca economica e chiaramente una perdita che continua da dieci anni del potere d'acquisto delle pensioni che attualmente sono ormai falciliate circa il 30% in meno rispetto a dieci anni fa. Siamo nella parte conclusiva di questo nostro appuntamento con CISL Informa. Abbiamo visto quali siano le posizioni indicativamente, ovviamente ci vorrebbe molto più tempo per denunciare tutti gli elementi, però ci siamo fatti e credo che abbiamo dato anche ai nostri telespettatori in un quadro molto chiaro della posizione dell'acquisto. Quindi una posizione, un atteggiamento che da una parte vorrebbe il dialogo e chiede il dialogo, dall'altra però attenzione andiamo a riaffermare alcuni principi e vogliamo farvelo capire in qualche modo. Quindi penso che ci saranno delle mobilitazioni per chiedere al governo che si ravvede in corso d'opera. Allora, noi abbiamo avuto un incontro a livello nazionale con il primo ministro Conte e c'era stato garantito che nell'estensione poi anche della finanziaria, che ormai è stata approvata, però ci sono ancora tutti i decreti istitutivi, poi delle varie cose che sono fondamentali come sempre, c'era stato garantito questo dialogo. Quindi noi abbiamo deciso insieme agli amici della CGL e della UIL di fare una manifestazione il 9 di febbraio a Roma, proprio per ribadire questo concetto. Quindi non è una manifestazione contro, è una manifestazione per costruire questo dialogo che noi riteniamo fondamentale con i famosi corpi intermedi che dicevamo prima. Le cose da migliorare sono tante, io penso che questo Paese ce la faccia davvero se in termini di coesione sociale ci mettiamo tutti intorno a un tavolo, lo diciamo sempre, ma mai come ora è importante perché poi l'Italia è un piccolo Paese quando si confronta con il mondo. Quindi noi dobbiamo fare squadra per migliorare le cose che ci sono. Io ho fatto una battuta iniziale e la rifaccio. Se l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, questo noi dobbiamo rimettere al centro. A noi piacciono poco le iniziative come appunto i condoni. Abbiamo invece la necessità di rimodernare questo Paese, di puntare di più sul lavoro, sulle infrastrutture, perché questo ci dà occasione anche di creare lavoro. Stiamo qui con i piedi per terra a Belluno rispetto all'alluvione. Se noi riusciamo ad investire risorse per curare il bosco, curare l'ambiente, ne guadagnerebbe il lavoro, ne guadagnerebbero le nostre aziende, ne guadagnerebbe anche l'ambiente e quindi in definitiva anche il turismo. Ma occorre avere una visione rispetto a questo. La manifestazione nazionale l'abbiamo indetta proprio per rimarcare queste idee, avere una visione. La CISL in questo senso la visione ce l'ha. Ripetiamo, il giorno della manifestazione? 9 febbraio. 9 febbraio. Bene, con questo noi andiamo a chiudere. Questo secondo appuntamento con CISL. Informa, ringrazio Rudy Rofare, segretario generale aggiunto CISL Belluno Treviso e Rino Dalbene che è segretario generale pensionati di Belluno Treviso. Grazie a voi naturalmente per averci seguito. Grazie a voi.